Capitolo dodici In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame, e presero a svellere delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero, Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato. Ma egli disse loro, Non avete voi letto quel che fece Davide, quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio, e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui, né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti? Ovvero non avete voi letto nella legge, che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato, e non ne son colpevoli? Or, io vi dico, che ve qui qualcosa di più grande del tempio. E se sapeste che cosa significhi voglio misricordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuol dell'uomo è signore del sabato. E partitosi di là, venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, affin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda. È egli lecito a far delle guarigioni in un giorno di sabato? Ed egli disse loro, chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prende e la tragga fuori? Or, quant'è un uomo da più d'una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato? Allora disse a quell'uomo, stendi la tua mano, e colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei usciti, tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente, di non farlo conoscere, affinché si adempisse, quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudicio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Ehi non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfar la giustizia. E nel nome di lui, le genti spereranno. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, tal che il mutolo, parlava, e vedeva. E tutte le turbe stupivano, e dicevano, non è costui il figliuol di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, principe dei demoni. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, ogni regno, diviso in parti contrarie, sarà ridotto in deserto, ed ogni città o casa divisa in parti contrarie, non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? E per questo, essi stessi saranno i vostri giudici. Ma, se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto a voi il regno di Dio, ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte, e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo, sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo, né in quello avvenire. O voi fate l'albero buono, e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo, e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché, dall'abbondanza del cuore, la bocca parla. L'uomo dà bene dal suo buon tesoro, trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro, trae cose malvagie. Or io vi dico, che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché, le tue parole, sarai giustificato, e dalle tue parole, sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli, Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Ma egli rispose loro, Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starai il figliuol dell'uomo, nel cuore della terra, tre giorni e tre notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione, e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è più che Salomone. Or, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo, e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa adonde sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, prendon qui vi dimora, e l'ultima condizione di codestuomo divien peggiore della prima. Così, avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi e di fuori, cercavano di parlargli, e uno gli disse, ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti, ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre.